oh pippo blocca gli la porta bloccalo bloccalo ok no pippo non devi andare qui non devi andare di là perché ti blocchi nel vigo però guarda pippo però ci stanno piccolo corrido e dopo dove lo vuoi guarda ritta mamuli si no non si chiude come si chiama pippo caro cazzo si chiude in tuo condotto quasi popo strunzi pippo piano piano pippo mi raccomando piano 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 ehi vado attacco dall'alvo non bacio piano piano ti ho detto filì pippo 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 Ah, meno male. Capito, no. Meglio così. Pippo, devi fare affidemmo qua, devi fare proprio attenzione, figlio, perché qua salutamelo, salutamelo. Pippo, c'è un punto interessante, a bo, chi le sarebbe così? Questo quadrato chi è? Oggetto un attrezzo A. Ah, è una ricarica per il lanciafiamme, figlio, è pure per il revolver. Pippo, aspetta, chi si sta all'interno? Sì, ho capito. Pippo, chi si sta qua? I pavimenti? Pippo, taggetto, non diamo ora. Taggetto, sì. E poi non demora. Lo faccio tutti che la d'ora. Andiamo ora. Sì. Sì, sì, sì. Oh, cazzo, è il sistema di allarme. E questo non l'avevo previsto. Aspetta, aspetta, Filippo. Aspetta, aspetta. Aspetta, Filippo. Aspetta. Taggetto, aspetta. Non ti muovere. Stai sotto la telecamera. Pippo, stai sotto la telecamera. Pippo, non ti muovere. Ah, sì. Pippo, ma tu sei andato a salvare? Ah? Pippo, tu devi andare a prenderti il resto della mappa se vuoi vedere la situazione. Eh, sì. Oh, chi ci sta qua? Chi si sta qua? Pronto, appunto, il boss. Oh no. La rinissima, ma ti già vuoi che fai i buchi? Aspetta, ma. Sto prendendo successo a Rostafuyer. Abboniamo, mi chiediamo che fuirino, va? E poi ne ha fai casino da giacchietta. È tutto aggiornato qua. Però Pippo deve entrare nella sala. Allora, auguri. Boh, ne ha piccato e piccato di munizione. Pippo, non ti muovere. Stai sotto a te. Stai portata a te. Non ti muovere, tu ci stai a sotto. Aspetta. E io a casa già faccio. E ora già io. E io sassi. Ah no. La porta. Con calma. Eh, è stato da bello. La contaminazione. Oh, è stato da bello. Pippo. Pippo. Calmo. Non dobbiamo metterlo vicino a che lo condotto vicino. Inizia il controllo dell'aria. Poi tu non la d'oretta. Noi, c'è Gesù Cristo. Ehi, Pippo. Se ti aiuta a mettere poco, lo che dinta l'arma è poco che non ti va a mettere. Oh, ma... Non. Oh, ma... Grazie a tutti. Martina, Martina è malata. Peppa Pig, dove sta Peppa Pig? Come dici? Peppa Pig, Peppa Pig. Peppa Pig. Aaaaah, vuole pulci. non mi faccio riuscire a me e mezzo stonca a cazzo che mi abbuffo pure cazzo il posto al 94 muoviti no stava al 94 torna indietro facciamo che sta all'infinito dietro si esci salta zitta metti a muovere Filippo non ti muovere ma hai detto a destra vai a destra ok tirati un poch' indietro ti è passato vicino no uo ma state se cucciate tirati indietro Pippo stai calmo non ti muovere è un gioco di intelligenza Filippo tu non sei intelligente eh lo dovrebbe fare Antonella capito non ti muovere Filippo lì e da due secondi si face sta scena sei sicuro sì 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 io non ti faccio giocare tu hai una partita che dobbiamo che dobbiamo cazzo non ti muovere ma ma cosa è una partita che dobbiamo cazzo ma cosa è una partita che dobbiamo cazzo vedo il mio non è visto Pippo, ti fottuto, vado brutta, ti fottuto, ti mi sento una brutta situazione, Pippo, ti mi sento una brutta situazione, veramente ti mi sento una brutta situazione, ti sento un po' di scicchia. Inizializzo il condotto dell'area di distribuzione per proseguire la procedura. Npo, pippo, pica, piza, pica, pica, pica. andiamo andiamo insieme alla prossima andiamo Vai ora, Pippo, veloce, veloce, non correre, non correre, buonanotte, sei morto, esce San D'Antonello, sono molto sviluppato, l'individuo è molto più rapidamente rispetto a umani e sintetici, ma root two hearts is to you.